Saremo tutti un po' arrugginiti, appesantiti dal riposo mentale più che da quello fisico. Trascorsi i 16 giorni senza calcio, si riparte. Dopo tante abbuffate è quasi una legge del contrapasso riprendere alle 12.30 l'ora del pranzo. In Inghilterra lo chiamano Sunday lunch, anche se siamo solo a mercoledì. Da noi è stata l'occasione pretestuosa per l'ultima polemica. Hanno tirato in ballo pure la chiesa e la messa nel giorno di festa, dipingendo un'Italia lontanissima dal reale. Hanno protestato pure sulla notturna di San Siro, eppure le nevicate sono solo un'esclusiva delle località di montagna. Nulla a che vedere con lo scenario di Manchester, dove hanno dovuto annullare il primo derby tra Ferguson e Mancini. Odio le pause, così ha esordito Morigno, che sarà pure antipatico a qualcuno, ma che almeno ha il dono dell'originalità, rifiuta le messe cantate e non frequenta i luoghi comuni della retorica. In mezzo a Italia, nei giorni delle feste, ci sono stati sole e temperature miti, l'ideale per il battesimo dello stadio per ragazzi e famiglie, che gli stadi militarizzati rispingono senza possibilità di appello. Invece, tutti a casa, a vedere gli altri, gli inglesi, ma non solo loro, giocare e divertirsi. E noi qui a parlare, a rimpiangere il passato, a evocare il bianco e nero e la radio. Ma il seme della novità è stato lanciato. Ancelotti, Capello, Mancini garantiscono che cambiare si può. Il futuro potrebbe finalmente non essere più modellato su ciò che è stato. Si ricomincia, per fortuna.